Caranici ben ritrovati su Agronotizie. La tendenza per i prossimi 15 giorni, manovre autunnali. Inizialmente ancora un paio di giorni praticamente estivi, di giorno, sì, fresco e umido, con foschie e nebbie al mattino. Poi però, da domenica, comincerà a cambiare un po' al nord, con qualche pioggia al nord-est. Comincerà ad affluire l'aria più fresca sulle regioni settentrionali e caleranno le temperature al nord. Poi pian pianino nel corso della nuova settimana, della prossima settimana, quindi tra il 16 e il 20, piogge da prima al nord, poi al centro. Solo delle nuvole e qualche isolata pioggia locale al sud, temperature che caleranno in particolar modo sulle regioni settentrionali. Una flessione lieve ci sarà anche al centro, poche variazioni al sud, anzi dal 20 al 25, probabilmente al 23-25, avremo una nuova impennata delle temperature sulle regioni meridionali, qualche altra pioggia irregolare investirà invece il centro e il nord. Insomma, comincia a cambiare un po' la situazione, ma ancora potrà insistere il caldo al sud, mentre l'autunno potrebbe bussare, anzi busserà, alle porte del nord Italia e poi a seguire anche del centro. Arrivederci!